Permesso Qua stiamo entrando a casa di qualcuno Salve No, no, la prego La prego, non tacci la telecamera Lascia il microfono Lascia il microfono No, mi scusi, ma perché? Ce ne stiamo andando Ce ne stiamo andando Basta, la prego Lei è marocchino come me Eh Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Striscia la notizia Eh, non c'è Striscia la notizia Un mio ammiratore Certo che Striscia la guardano proprio tutti, 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 eh Scusami Ah, Striscia la notizia Ti apre tutte le porte Strucifono tutti i giorni Senti grandi Stiamo a vedere la sua abitazione Solo riprendiamo Poi vi faccio l'urlo finale Oh, questo è come apri di sesamo Fai l'urlo berbero e pazzo Dai, grazie, grazie mille Qua dormono in una condizione per terra Con un materasso appoggiato, e delle coperte sporche Come ti presenti a casa con una casa con una casa con una casa con una casa con un materasso appoggiato e delle coperte sporche Siamo tutti Dessi in casa con un caritas Siamo tutti Ci sono tutti Mettiamo Che c'è la vita Questa è la ricerca C'è il ugly Dessi in Gr compare Non è il ugly Non è il ugly Non è il ugly Non è il ugly Questo dovrebbe essere il bagno esterno Ammaccia ma non si può stare ragazzi qua Però qua è pericoloso per voi Cioè ve ne rendete conto Questo edificio cade a pezzi Io lo so Se si cade a pezzi moriamo noi Non potete State mettendo un po' la vostra vita in pericolo stando qua Sì va bene Io ho ammesso Quando c'era una città Vitamina Ora ce l'ho curata a tre anni Non sono successo niente Ancora Questa è la mia casa Ma è possibile che nessuno in tutti questi anni Abbia fatto nulla per mettere in sicurezza questo edificio? Con questo interrogativo vi do la linea studio Vai